Grazie Presidente, un brevissimo intervento per associarci ovviamente all'espressione di solidarietà a Manuel per ciò che ha ricevuto nell'evento tragico che così tanto dolore ha causato a questa ragazza, a questa promessa anche dello sport. Io credo che in Manuel possiamo vedere tutti coloro che subiscono per la violenza di qualcuno, soprattutto sul nostro territorio che è un territorio dove immaginiamo sempre di poter invece accogliere e ribadire la sicurezza di tutti coloro che si trovano all'interno della nostra città, che ha subito come altri un atto di violenza per colpa di chi invece questa accoglienza, questo spirito non lo ha accolto. Per cui al nome del Movimento 5 Stelle esprimiamo ovviamente la volontà di votare favorevolmente questa mozione e quindi sia ribadire la solidarietà a Manuel Bortuzzo che ovviamente chiedere l'impegno della Sindaca perché gli venga conferita la cittadinanza onoraria. Grazie.